buongiorno compagni di via questo è il terzo video della serie approfondimenti del purna yoga di sharia rubindo e della madre trattiamo un tema fondamentale nel purna yoga che l'essere psichico e leggeremo il quarto volume delle lettere sullo yoga nella parte che riguarda i piani e parti dell'essere cioè come è costituito il nostro essere è un argomento non facile è un argomento non facile perché ci si può arrivare intuitivamente a meno che qualcuno di noi non abbia avuto degli sprazzi di esperienze reali vissute in stati di coscienza speciali attraverso magari la pratica della meditazione o altri momenti di grazia in cui abbiamo avuto accesso a esperienze che ci hanno fatto comprendere una parte di questi insegnamenti di shri aurobindo quindi esporrò quello che lui scrive in questo libro lettere sullo yoga che sono ricordo dei delle lettere che lui mandava ai suoi allievi per insegnare ulteriormente loro il suo pensiero e la sua esperienza e per guidarli nella difficile pratica del purna yoga partiamo con questa affermazione siamo a pagina 43 del libro dice shri aurobindo l'essere l'espressione essere centrale è di solito applicata nel nostro yoga alla parte del divino in noi che sorregge tutto il resto della nostra complessità e che sopravvive oltre la morte e la nascita quindi c'è questo essere centrale che però ha due forme continuo a specificare shri aurobindo e questo è molto importante coglierlo almeno come informazione da elaborare questo essere centrale questo essere centrale ha due forme in alto e il givatman che il nostro vero essere di cui diveniamo coscienti quando viene la conoscenza superiore di sé in basso è l'essere psichico e indico qui il petto al centro in basso è l'essere psichico che sta dietro la mente dietro il corpo e dietro la vita cioè dietro le emozioni tutto il corpo emozionale o vitale il givatman è situato sopra la manifestazione nella vita quindi sopra la manifestazione nella vita e presiede ad essa alla manifestazione nella vita l'essere psichico invece sta dietro e sostiene la manifestazione nella vita quindi potremmo identificare un essere più vasto scusate le parole diciamo molto semplici e a questo essere più vasto si collega una particella divina interna a noi l'essere psichico ma in realtà sono connessi potremmo dire che c'è una identità spirituale che si connette ad una ad un essere centrale più vasto ripeto non è facile comprenderlo quello che ci interessa comprendere è questo nucleo interiore l'essere psichico che è che è il catalizzatore di tutto il processo di trasformazione dell'essere umano e che si connette alla più vasta dimensione dell'essere il givatman che è la forma in alto dell'essere centrale nella sua essenza non cambia né si evolve la sua essenza rimane al di sopra dell'evoluzione personale nell'evoluzione stessa è rappresentato invece dall'essere psichico che si evolve e sorregge tutto il resto nella natura quindi quello che si evolve è direi la individualità spirituale connessa al cuore che sta dietro a tutte le nostre funzioni mentali vitali e fisiche il givatman che è il nostro vero essere che sta sopra dice scele a rubindo non è l'essere psichico givatman è il sé individuale dell'essere centrale l'essere centrale è quello non nato che non si evolve ma presiede a tutta la manifestazione individuale quindi presiede all'essere psichico ecco perché è connesso presiede alla nostra goccia divina individuale lo psichico quindi l'essere psichico è la sua proiezione qua giù lo psichico infatti è nell'evoluzione e sostiene dall'interno tutta la nostra evoluzione riceve l'essenza di ogni esperienza e con ciò fa evolvere la personalità verso la sua condizione divina quindi tutte le nostre esperienze vanno all'essere psichico che attraverso di esse evolve l'anima o psiche ecco perché la chiama essere psichico è immutabile solo nel senso che contiene dentro di sé tutte le possibilità del divino ma deve farle evolvere e nella propria evoluzione assume la forma di un individuo psichico in sviluppo che nella manifestazione quindi incarnandosi fa evolvere la pracriti individuale ovvero ovvero il nostro aspetto la nostra forma corpo emozioni mente e quindi prende parte all'evoluzione quindi è molto importante comprendere che al nostro livello quindi abbassandoci al nostro livello c'è comunque un nucleo psichico un nucleo spirituale che si evolve e che è presente e che maggiormente o minormente a secondo del livello evolutivo dell'individuo quindi c'è un'anima o psiche che è immutabile e quindi non è l'anima come viene intesa in altre tradizioni che parlano di involucri animici Shireo Robindo per anima non intende gli involucri dell'anima quindi il corpo mentale il corpo astrale il corpo eterico questo è molto importante comprenderlo l'anima è l'essere che si manifesta in tutti gli aspetti della vita dal filo d'erba all'essere umano ma questa essenza divina che Shireo Robindo chiama anima nell'essere umano può acquisire sempre di più una identità spirituale che si chiama essere psichico quindi ogni essere vivente ha una natura divina proprio dal paramecio dagli esseri unicellulari ripeto al filo d'erba agli insetti a ogni forma animale fino all'uomo tutta la vita ha una natura divina ma la natura divina si può manifestare a livello più evoluto sviluppando una identità un nucleo una scintilla divina cosciente solo nell'essere umano e questa scintilla divina cosciente Shireo Robindo la chiama l'essere psichico che a sua volta è connesso con l'essere col G. Vattman con una coscienza più vasta al di sopra di sé non riesco a spiegarlo meglio accettate i miei limiti davvero grandi non è un discorso culturale per questo con le conoscenze ripeto limitate che ho e non parlo di conoscenze intellettuali ma parlo di esperienze interiori limitate posso cercare di farvi comprendere piccole cose di questo grandissimo tema ma quello che ci preme comprendere è l'importanza dell'essere psichico quindi della identità spirituale che noi possiamo sviluppare noi esseri umani e far crescere sempre di più l'essere centrale è quello che presiede alle diverse nascite l'una dopo l'altra ma di per sé è non nato poiché non discende nell'essere ma rimane sopra di esso quindi l'essere centrale presiede all'essere psichico quindi non scende nell'incarnazione è l'essere psichico che scende nell'incarnazione tiene assieme gli esseri mentale vitale e fisico e tutte le varie parti della personalità l'essere centrale è il soggetto e guida la vita sia attraverso l'essere mentale il pensiero e la volontà mentali sia attraverso lo psichico questo nucleo centrale divino lo psichico non è sopra non è sopra ma dietro e dietro il cuore ovviamente è ovviamente è non è un dietro spaziale è una dimensione dietro al cuore quindi lo psichico non è sopra ma dietro la sua sede è dietro il cuore il suo potere il suo potere non è la conoscenza ma un sentimento essenziale o spirituale esso ha un senso chiarissimo della verità ecco l'essere psichico si connette alla coscienza di verità di cui parla Shri Aurobindo la coscienza super mentale e quindi e quindi riconosce soltanto ciò che è vero la sua azione diretta diventa normale quindi l'azione diretta dell'essere psichico diventa normale e preponderante solo a uno stadio avanzato di sviluppo o per mezzo dello yoga quello che sentite darvi le intuizioni di cose a venire o che vi mette in guardia contro i risultati di certe azioni non è l'essere psichico è qualche parte dell'essere interiore a volte la mente interiore a volte il vitale interiore l'essere interiore mente interiore vitale interiore fisico sottile interiore sa molte cose sconosciute alla mente al vitale al fisico esteriore quindi che cosa sta dicendo l'essere psichico ci dà delle intuizioni ma quello che produce che raccoglie è quello che raccoglie le intuizioni fondamentalmente no più che le dia le raccoglie raccoglie le intuizioni dell'aspetto interiore della nostra mente del nostro vitale del nostro corpo cioè c'è una saggezza interiore nel nostro corpo c'è una saggezza interiore nelle nostre emozioni c'è una saggezza interiore nella nostra mente e questa saggezza porta intuizioni che giungono all'essere psichico ma il nostro vero rappresentante e che è nascosto dietro la mente il vitale il fisico è l'essere psichico il nostro essere più segreto quindi questa goccia divina sta dietro tutto questo raccoglie delle esperienze del mentale del vitale del fisico ma mano mano che noi ci evolviamo prendiamo sempre più coscienza dell'essere psichico dentro di noi e diveniamo coscienti anche del Givatman che è il sé o spirito indiviso al di sopra della manifestazione di cui lo psichico è qui il rappresentante qua è detto con grande chiarezza quindi c'è il Givatman che è lo spirito indiviso che ha come rappresentante di sé l'essere psichico ovvero la nostra goccia divina io mi fermerei su queste considerazioni perché mi rendo conto della grande difficoltà di trattare questo argomento ci sono molti linguaggi nelle varie tradizioni varie definizioni di anima di spirito ma in realtà molto spesso è un travisamento di linguaggio quello che ho notato approfondendo negli anni questi argomenti e attraverso piccole esperienze della mia pratica meditativa è che fondamentalmente c'è una dimensione di coscienza molto più vasta in cui siamo immersi che c'è un nucleo individuale divino all'interno di noi che è connesso a questa coscienza più vasta che questo nucleo divino l'essere psichico è la nostra vera identità nella dimensione umana e che questo nucleo l'essere psichico ha degli involucri involucri animici e questi involucri sono l'essere mentale il corpo mentale il corpo astrale o corpo vitale o corpo emotivo il corpo eterico che fa da tramite e che connette con il corpo fisico e che connette quindi l'essere psichico gli involucri dell'essere psichico o involucri animici li connette al nostro corpo fisico e quindi c'è la nostra incarnazione quello che ci preme è attivarci attraverso una via tradizionale iniziatica iniziatica seria vera autentica con umiltà con un intento inflessibile con una disciplina con una disciplina applicarci alla connessione con questo centro divino che regge che regge tutta la nostra personalità e attraverso questo centro divino vogliamo aprirci al divino alla vastità del divino comunque venga chiamato l'essere supremo il brahman il dio padre e poi tutte queste distinzioni queste terminologie diverse sull'anima, lo spirito i corpi animici prenderle come sicuramente un'informazione cercare di di comprenderli per quello che c'è possibile da un punto di vista intuitivo ma andare poi al sodo a quello che al nostro livello più profano è possibile perché attraverso una pratica spirituale e attraverso la possibilità di cominciare ad accedere a uno spazio di coscienza più vasto dentro di noi e fuori di noi piano piano si comincia a comprendere veramente questo linguaggio o quello che c'è dietro il linguaggio delle varie tradizioni ed è l'unica vera saggezza è l'unica vera conoscenza quella che passa attraverso l'esperienza diretta personale non l'esperienza cognitiva intellettuale ma l'esperienza interiore meglio comprendere pochissime cose ma quelle comprenderle veramente che cercare di voler comprendere la vastità di certi sistemi tradizionali che vengono enunciati dai grandi esseri dai veri maestri ma a cui si può accedere solo ad altissimi gradi evolutivi ad altissimi livelli di coscienza ma noi non siamo a quei livelli ma già possiamo fare tantissimo se cominciamo ad accedere al primo livello il contatto con la nostra luce divina come direbbe Santa Teresa Davila o Santa Teresa di Gesù che è conosciuta anche in questo modo è già un grande merito accedere al castello interiore poi poi da lì c'è tutto un viaggio che durerà vita o vite in cui possiamo esplorare il Sanctorum il livello più profondo il nucleo del castello interiore il castello interiore nel linguaggio di Santa Teresa Davila è l'anima da esplorare ecco quindi muoviamoci al nostro livello possibile in questa direzione apriamoci al divino interiore nascosto dietro il nostro cuore vi auguro ogni bene l'anima da l'anima da